Sta per partire un chilometro d'azzurro l'iniziativa di Fabrizio Maiello in onore della nazionale di calcio che ha vinto gli europei. La sua ennesima impresa non poteva non partire dall'ex ospedale psichiatrico giudiziario dove Fabrizio Maiello ha trascorso buona parte della sua vita. Chiaramente il chilometro la farà a suo modo, palleggiando, eccolo qua che si sta riscaldando, tra poco parte con la maglia un palone per la legalità. Fabrizio, allora l'ennesima impresa per lanciare quale messaggio? Per lanciare il messaggio di ripartenza, partiamo da questo posto di dolore, di sofferenza dove ho passato 14 anni, ho palleggiato i miei record, sono nati sempre dentro queste mura. Oggi lo voglio fare in libertà per un messaggio di speranza, di fratellanza, sempre con il pallone. Tenteremo questo chilometro e cento metri per la via della legalità. E quindi buona palleggiata e buona esperienza e avanti sempre. Grazie, avanti sempre. Grazie, grazie, ciao.